Siamo rimasti che siamo ovviamente al tramonto, sta calando la sera Ada che si è avvolta con le fasce con metà del vestito che gli era rimasto Per evitare di continuare a sanguinare E allora adesso che cosa vogliamo fare? Perché ormai sta arrivando la notte Beh accontiamoci Concordo Però dopo dobbiamo tornare indietro Perché dobbiamo andare indietro? Chiaramente Eh, secondo te? Siamo venuti allora, io sono mezza morto Ah, stiamo caricando e ci stiamo portando dietro le armi Io non cibo Bene Stiamo andando a mente Non sappiamo che contro cosa stiamo andando a combattere Preferi tornare indietro avere altre informazioni sulle nostre prede Vabbè io ho detto soltanto che ho fatto C'è proprio se vogliamo andare a mangiare Chi ti vuoi un sacco a pelo? Allora, io no Bene Io non ho fatto un sacco a pelo Ok Allora Chi non ha un sacco a pelo Chi non ha un sacco a pelo Tiri di sopravvivenza per Per farsi la Una cosa all'interno della neve Tipo Un piccolo Chi non ha un sacco a pelo Si Ho fatto 17 Comunque ragazzi è cazzo di buono scriveteli direttamente nel tiro di il dato Eh sì, Stefano non ce l'ha ancora compito la notte Si può fare automovamente basta fare più uno Mi stanno vogliono aprire il menu comunque ho fatto 17 Eh sì, io ce l'ho messo il tuo posto i dati della scheda Ok, allora poi ti tiri da lì Basta che tieni la cosa aperta Mi sa che non l'ho fatto lì Ovviamente non posso tirarlo Non ho capito in che senso ti rai Basta che clicchi sulla scheda Su un valore della scheda Ah no, non l'ho completato sul sito Il primo Ok Ah, quello sul sito Guarda 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 Attende Perfetto E poi prima Ah, non ho capito Sì Sono morto No, semplicemente ti becchi il malo Da freddo la mattina dopo Ah, beh, devi tirare di sopravvivenza prima Devi farvivenza e di tempo Ok, poi la schiena Se la schiena che non tanto Gli bocassi la grida Sempre, sempre Forse Tu stai dicendo che mi chiamiamo Sì 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 Vai Clicca Ok Undici No, non l'hai passato No, non l'hai passato Aia Aia Ehi, 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 ehi Ehi, ehi, ehi Ehi Mentre ci svegliamo al mattino subito Adesso si mette e comincia a gridare Sveglia Ci dobbiamo andare Ovviamente Io vengo da Oh, fammi riposare ancora Forse che per me te è colpato che sono in queste condizioni Che dovrebbe essere colpa mia Ci hai fatto Mi hai fatto perdere vita inutilmente all'inizio Volevo essere potuto recuperarmela adesso Non è vero Non ti ho fatto perdere vita Ti ho curato completamente Sì, ma avremmo potuto farlo dopo Adesso dobbiamo comunque andare indietro Ma io mi abbiare Aaaaaah Ho scogliato il più attivo di te Ti stai veramente marendo di freddo È di fortuna che vengo la pellice Cos'è il freddo? Non lo so nemmeno io Allora Io vado dal mago E gli chiedo Siccome sappiamo Cioè comunque Siccome io so che ti trasformi Sei tipo un lupo mannaro E come verrebbe trasformarti adesso? Perché dobbiamo farci almeno un milio di strada Ah, mi porto un po' Porto un po' Sì, ti riesci anche due Ok, allora Vabbè, come ti faccio il porto un amico Sì, mi trasformo Sì Mi trasformo 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 nell'orto mannaro Ok, allora Che cosa faccio vedere? Eh, come faccio vedere? Eh, basta che c'è una ritaglia piccola Quanto c'è una ritaglia piccola? Eh, io Ok, prendo due Ok Qualcuno si vuole liberare dell'ingombro Così andiamo pure più veloci? No Ok Ok Ma quindi Che sto portando sopra? Il bardo Andiamo Lemma Ok, lemma è lì a bordo Lemma è lì a bordo Porta anche il pallino, porta stavo Non credo possa parlare in forma bestiale Infatti Ma Allora 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 Sono l'unico orso Aromatizzato come vi sa che cosa lo scogliato No, va a vivere con me Vabbè No, in realtà lo scogliattolo si potrebbe formare una persona E' un mannaro al contrario E' come Chopperman Eh, come il mio raro praticamente E' stato un orso dopo Sì L'umano mannaro Che storia Vabbè Tro... Adesso si può fare Si può dire comunque trotta galoppa, trotta galoppa Se sei un orso Vabbè Trotta galoppa, trotta galoppa Torniamo dentro Forse lo trovi Cioè Meglio Ok Allora Allora La prima cosa Allora adesso faccio vada eh Quindi Allora la prima cosa da fare è Liberarci di questo Tutto questo c'è un frusaglio Perché a noi siamo Sono inutili Magari li riportiamo al tipo A YUN E ci facciamo anche dire qualcos'altro Che è d'accordo Ah sì Certo, certo Certo Molto Era tu Tre o cinque Allora Rientriamo All'interno dell'apotecario Willowbar Troviamo di fronte a noi Sempre il L'ormai vecchio Yul Ormai si sta praticamente ristabilendo Lo vediamo ovviamente seduto sul letto Con le braccia Trambe le braccia fasciate Ormai molte delle sue cicatrici Sono quasi curate E Ci guarda Al momento in cui vede che arriviamo con la Con la casta Con dentro le sue cose Cioè le cose Dei suoi compagni mercenari Un po' Cade giù di morale Prende gli lancia davanti Fatti questo e non sappiamo che farcene Cosa vuoi fare? Beh io penso di trasformarmi almeno Io gli do l'armatura col simbolo Gli dico che cavolo di simbolo è questo Devo tirare no di qualcosa Sì Non mi ricordo di cosa Mi inteso di popolazione Vabbè dai Chiedi Chiedi soltanto Eeeh Che cosa interpreta questo simbolo? Quello è il simbolo di una casata Il nome della casata? Il nome della casata? Taldana Nel frattempo che vuoi parlare Mi vado in un angolo droga Mi vede nessuno e mi ritrasformano in mano E poi niente E poi ritorno Mi ritorno Mi chiedo se per caso Ritorno Dai chiedi No stavo per dire una cosa da buona Poi mi sono ricordato di nuovo Di essere cattivo Quindi Non sei cattivo? Ne avrà le cavo Ti guarda Guarda lo stemma della casata Guarda l'armatura Mezza Mezza distrutta Guarda Guarda il vichingo Ragazzo Vuoi avere questa Vorresti indossare questa armatura? Dovrebbe bene Dovresti farla riparare E cancellare lo stemma dei Taldan E sarà tutta tua Vi dico perchè sicuramente se incontro i membri della casata ti muoranno l'armatura Tranquillo Dica te l'ha dato a Yun Ed sarai a posto Ok Ma non c'è soldi per ripararla Ok Ma non c'è soldi per ripararla Ma siccome ormai i suoi giorni da guerriero sono finiti Almeno per ora Ti chiede se tu vorrai brandirla Ok Molto Molto Apatico il mio Ok Peccato Lui si sta praticamente offrendo in mano la sua La sua vita da guerriero Eh Accetto onorevolmente Va meglio Molto meglio Vedendo che tu impugni la spada E E' accettato il dono della Dell'armatura Un po' si tranquillizza di più E vi chiede Perchè siamo tornati adesso E se abbiamo già trovato Lady Argentina Non l'abbiamo trovata ma siamo tornati per fare provviste E per poi procedere nel viaggio E mentre stiamo parlando Il mago rientra E il mago E il Il prete del villaggio lo guarda tipo Stai morendo di freddo E io rispondo Magari Ma proprio Io offro una pozione Per ripristinare gli effetti Ah che buono L'accetto molto Molto Volentieri Giovanni che tipo di spada è questa? Una spada lunga di ferro freddo Eh attacco, danno, cosa? Una classica spada lunga E' soltanto di ferro freddo Ah ok allora No no non serve di me che cazzo Megaccio Qualcuno vuole porre le altre domande? Eh 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 La mia cazzo 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 Però da quando è iniziata la guerra delle streghe Lui ho acquisito molto più potere Probabilmente Ha ricevuto Qualche dono Da parte della tua allergia delle streghe Verrebbe così forte Non è un tipo da prendere alla sprovvisa Non è un tipo da prendere alla sprovvisa Quindi probabilmente avrà piazzato Gli zombie che hai affrontato Non sono rimasti Ma saranno una trappola Saranno stagione una trappola Eh Visto che hai detto questa cosa Vorrei informarmi Trappola per cosa Trappola per cosa Probabilmente per chiunque Si stia mettendo sulle sue tracce Quindi Dovete fare molta attenzione E le trappole piazzate all'interno del bosco? Il bosco è abitato da molte creature magiche Ah Il fuoco e anche la mia spada Sono l'unica cosa in grado di ferirle Quindi Dovete stare con occhi aperti I polletti vivono nella natura Ok Ah quindi adesso io ho una spada che può ferire Non ho capito cosa? Polletti Polletti Palletti Palletti Mh Ah me l'avevo messa nella borsa la spada Ok me la brandisco a sto punto È andata per brandirla Non è rotta come la cotta eh Cosa? Stai vedendo Non è una Non è rotta quella spada È in ottime condizioni Sì il problema è che sto già brandendo una lancia e un'altra spada Vabbè E ti segni quella e poi decidi con cosa attaccare Consideri che cambiare arma è un'azione È un'azione veloce se non hai il talento Se non hai il talento estrazione rapida Quindi cambiare arma è un po' Devi partire già dall'inizio Con un'arma già estratta Però siccome è ferro freddo anzi quello Allora Adesso Va bene cambio il nome della mia spada normale e metto al fianco con freddo freddo basta Ma sì Ma sì Dice la tua poi dici poi la porgio di nuovo Ok Allora Ok adesso c'ho tre spade e non ne devi inventare Allora Io sto cercando delle freddo 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 Quindi Adesso Con il Questo la prima cosa però io devo prendere provviste e qualcosa per stare più caldo occhi allora ci dirigiamo verso l'epoca l'ultimo perché non è tutto non vedo me allora un attimo perché mi sono segnato il valore di tutto allora no, questo è quello ho dato una botta al microfono allora abbiamo 52 monete d'oro a testa per via delle armi e armature che ci avevamo dell'interno del coso della cazza che abbiamo riportato indietro ah ok io vedo anche lo sparo allora ok quanto a testa 52 d'oro e ricordati che il tuo pugnale di taglia media non piccola ok quindi anche con le due spade il 52 a testa sì 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 quindi in realtà non è un pugnale beh per noi sì per me è una spada corta una spada corta no corta e un'altra cosa no a livello di dimensione è una spada corta no a livello di dimensione è quanto una spada corta per l'altro ok 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 io ho trovato dovevano le torte provviste proprio come facciamo a dimmi cipare una vabbè dai allora quindi chi vuole venire chi vuole andare ma io c'ho la carne di cavallo sì ma gli altri no io non ho niente ma proprio niente allora quindi chi andrà con Ada a reperire informazioni su questi polletti io vado a fare shopping di sacchiappelli eh vengono come siamo eh Atlas non mi ricordo ok io vado per Atlas a prendere ASTALOS decisi scusami vado per la lontalossa a prendere i sacchiappelli e per buco ok andrò da sola ho una pessima memoria ma la cosa vuole venire con noi e poi va bene ok andiamo quindi ok ci troviamo quindi all'interno ma il paladino zitto zitto che non dici beh oggi sto con Bjorn eh Bjorn sì eh Turion ci sei non è che è rimasto venuto non è che è rimasto venuto Davide ha scritto vado anche io a shoppare sì ho visto ho visto quindi venite ci muoviamo tutti insieme oltre che con una bella famiglia felice yeeeh quindi alla 1 stiamo a fare allarmeria e invece c'è allarmeria vabbè qualcuno di voi deve prendere munizioni qualcosa? io dovrei fare un bel paladino io no ok ok se non ci vuole prendere abbiamo venduto i capelli lucchetti ok io devo fare qualcosa non ci siamo due siamo tutti io devo fare qualcosa allora Ata deve andare a prendere informazioni sulla creatura sulla creatura che abbiamo ucciso che abbiamo ucciso che c'è ancora c'è ancora la testa del mostro qua ho visto che questi speci di rama benzoloni così vabbè ricordiamo che io ho preso la scaglia ma non l'ho portata allora quindi io posso essere anche l'ultimo vi devo andare a qualche altra parte ok io devo andare all'armeria e siamo già arrivati ok e allora posso già chiedere vai vai io devo andare nella forza poi vabbè che tagli ok una cosa la vuoi allora volevo trasformare quel pugnale perfetto di taglia media in un pugnale perfetto di taglia piccola si per il resto del materiale però eh eh no so più che il materiale per accorciarlo poi viene buttato non si rimane a parte dei segnali quindi no per giro ok nei 50 moneditori nei 50 moneditori ce l'ho perfetto ok con l'altro deve fare qualcosa sia all'armeria giuro controllare qualche armatura buona che c'è ehm sono povero no vabbè io no ok io sto bello tranquillo con i soldi ricorda che sono sei un anno ci credo ecco sì ecco 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 vabbè per un'armatura pesante non posso farci niente mi sa tu c'hai già l'armatura pesante vabbè siccome ci sono qualcosa di male io prima vabbè ci prende un'armatura completa per esempio ma quella che c'hai mi sai che è completa Ho già parlato di ciò che infatti è completa di nuovo. E' una modera completa, più stessa in... Infatti viene costituita perché non è completa, si. Allora quindi anche tu non hai niente da fare più. Ok, allora quindi prossima meta la forgia. Si. Ok. Adesso ti trova. Era molto distante. Sì, 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 sì. L'abbiamo solamente scavalcato due case. Sì, sì. Allora, cosa volete fare? Non ti sa. Ah, d'accordo. Io faccio guardare. Sto a me. 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 Io sinceramente con parlare sono con me. Sono padre. Sono con me. Io lo chiamo con me. Algo buone cosa. Sì. Buongiorno tu, mio amore. Il 46 si presenta un uomo con una bellissima barba lunga, grigia, con un bullonazzo che la tiene chiusa. Quella panza che si traborda dal cerco. Un lunghissimo caaaa. Ma questo è l'escrizione di Giovanni. Affanculo. Io non ce l'ho il crembiule da Fabbro. Ah, però non hai detto che non c'è il panzone. Ah, no. Questo non lo posso legare. Beh. Però so che vorresti avere il mio buio da Fabbro tutti. Sì. Lo voglio. Ok. Con lui da Fabbro si chiama la barba grigia. Sì, sì. Oh, vedi che bello essere un Fabbro. Barba enorme. Muscoli. Panza. Allora, davvero un uomo. Secondo te come voglio farlo? Eh, in effetti. Secondo te cosa volevo chiedere due secondi fa? Allora... Ma secondo voi non sarebbe meglio continuare? Sì, infatti. Comunque stiamo chiedendo al Fabbro se c'è qualche notizia che può vendere il libro del Fabbro, per esempio. Attualmente il libro ce l'ha la figlia che sta studiando anche lei per l'apprendistato, la Fabbra. Però se lo può prestare. Alcune pagine, non tutte. Ah, ok. Va bene, le pagine più importanti quali sono, per esempio? Da solo quelle iniziali. Da solo quelle iniziali. Quindi si fa comprendere le riflessioni, le materiali e come si forgia un metallo. Ma il resto sarà tutto da scoprire. Ovviamente ogni Fabbro è un segreto. Vabbè, alla fine quanti capitoli sono, quindi, a queste parti? Quattro. Ah, vabbè, dai. Quindi c'è il tempo di farmi qualche avventura, tante cose. iniziali. No, io sto bene. Tu non hai un'armatura rossa da farmi parare. No, l'armatura ce l'ha addosso quella buona, quella rotta è... No, era rotta. Era rotta. Era rotta. Era rotta. Nella storia precedente pure. L'armatura ha pure detto prima. Vabbè, scusa, ehm... Mio carissimo Giovanni, ma sei tipo Cicasto un riparare? Non ti chiedo. No. Perché è temporale. Quella è completamente risposta al prezzo, credo. Riparare... L'armatura media. Ma non ci... Ripariamola, vai, riparla. Ok. Dice che ci vorrà avvenire un'intera giornata. Quindi... Se vogliamo andare avanti, tanto... Finché finisce... Noi finiamo di pagare. L'armatura media. Tanto... Ok, comunque è rotta. Quindi... In ogni caso possiamo tornare indietro dopo. Vabbè. Ok. Dosti un'altra cosa da chiedere? Io continuo con il colletto. Io direi che possiamo chiedere anche ai giocatori se possiamo andare in taverna. No, non ci penso più. No. Non ci penso più. No, questa volta non facciamo nulla, dai. Non prometto. Guarda, andiamo dall'apotecario per figuretta. Quanto per le bottone, che com'è? Dall'apotecario? Come stava ancora lo sgordio, Giulio. Lo sgordio. Il menomato, dai. Capisco il mercenario, ma lo sgordio. Menomato. Menomato. Menomale. Meno male che meno male. Allora. Buttiamo con delicatezza. Non me la fai. No, no, non la sfondiamo la porta. No, 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 scusate. Utilizzate la swing come ariete. Ma quello lo facciamo dopo. Dol dalla testa. Dol dalla testa. Ah, da anche abbastanza fretta. Quindi entriamo. Vabbè. E vediamo. Allora. Yul sempre che sta ancora a seduto. Perché non è passato tantissimo da quando siamo tornati qui. Ehm. E diventa a noi. Il Fred ci chiede cosa siamo venuti a fare. Se ci serve qualcosa. Oh sì, certo. Ci servirebbero un paio di pozioni. Pozioni ovviamente di cura. Soltanto quattro pozioni di cura referente moderate. E poi cinque di quelle per cura referente. Di rintesa al tepe. Tanti meno. E' ben velata. Certo. Esattamente quanto costerebbero l'una? Siccome stiamo andando a fare un viaggio pericoloso. Ormai la Yul che sa che stavano lì ha raccontato. Ha raccontato un sacco di storie. E poi ho anche un po' paura che tutto ciò che sia nel bosco possa arrivare da loro. Vi da gratis queste postioni. Oh, grazie Bruno. Mi rivolgo ai miei compagni. Mie cari signori e compagni. Penso che il nostro prossimo urgente acquisto potrebbe essere una particolare borsa che permette di essere condivisa da tutti. Concordo. Per me va bene. Ovvero una borsa magica che ognuno di noi ha con sé e semplicemente con un anello ci ti può accedere. se queste cose magiche non mi riguardano. Fate come volete. Io ho fretta di andare a parlare con gli indovinei di questo posto e farmi sugliare che ci sia questa sottospecie di lucertola gigante. La serpente. Sì, con calma. Diciamo che abbiamo un po' di priorità. Diciamo che... La priorità l'abbia quasi ucciso. Sì, questo non toglie il fatto che abbiamo comunque delle priorità. Io ho un zaino. Sì, ma forse non ti è chiaro una cosa. Con questo zaino noi potremmo avere tutti quanti le stesse cose ma semplicemente ognuno porta il suo. Mi spiego un po' meglio magari. In questo zaino noi ci potremmo mettere effettivamente tutte queste pozioni e ogni volta che ci converrà potremmo effettivamente prendere da questa borsa le pozioni da luoghi differenti. Per esempio, se ci dividiamo, uno potrebbe soffrire delle pozioni e in realtà potrebbe anche essere utile per scambiarci dei messaggi per il credit. Ci potremmo per esempio scrivere dei bigliettini per aggiornarsi. Una buona idea. Prete, hai qualcosa di simile a questo coso magico che sta dicendo il nano? Il battetto qui. Il nano. Sono un uomo, però va bene. Siamo tutti uguali. No, non siamo tutti uguali. Ho capito, ma io sono alto 90 cm e quello è un metro e quaranta. Non mi interessa. Vabbè, è comunque più alto. Il credit ci riguarda un sacco di perplessità per vedere l'eterna scenata che stanno andando avanti. e risponde che purtroppo non ce l'hanno, in questo posto non ce ne sono. Oh. No. Anche perché è un paese povero. Oh, questo è un po' una brutta notizia in realtà. Eh, però dai, dovremmo provare magari da qualche avventore. e poi è un po' una brutta notizia in realtà. Ehm... e poi è un po' una brutta notizia in realtà. Ehm... non in sua presenza capisci cosa intendo non è detto però che la rubiamo un corpo morto in ogni caso mi rivolgo questa volta al al cazzo nostro esatto a lui dicendogli a quanto pare effettivamente queste creature non è che siano proprio amichevoli quindi prima magari di andare da questa famigerata indobina a qualcosa da dirci lei ma non me ne frega niente dal profondo del cuore che lui prima era paladino come personaggio comunque l'impede dice che è l'unica persona che può sapere qualcosa e l'indovina l'avete indovina ok ok va bene non sarò più stretta andare nell'info ok andiamo perché finalmente ci muoviamo verso casa che si indovina comunque il mercenario dov'è che stava e all'apotecaria e sta qui sta lì a guardare seduto tutto pentato che sta mangiando la zuppa perché non ha più i denti allora che ci sono vado anche i miei due cento ferro non c'è la lunga 44 secondi di lunga muoviamoci questa stessa sta ancora aggrandando sangue scusa non ti si erano un pochettino curate con le fiamme no parlavo della testa del serpentone qua vabbè scusi cicatrizza pure quella dai posso usarle una volta al giorno preferisco usarle per altro non hai mai pensato di utilizzare una torcia magari ma non possiamo farla adesso in città poi dovevamo muoverci abbiamo fretta forza l'ho detto una torcia non un palò ho un po' di bivacco dentro un bivacco guardati che muoviamoci chiedi quello che devi chiedere vabbè quindi tutto gli devo chiedere che era la spada che era la spada miglia perfetta la spada era il suo compagno di avventure era uno con cui accoglio l'esperienza vent'anni di carriera questo comodo Cristo ma quale è quella spada di ferro freddo che mi ha nato? no la spada di ferro freddo è di Yul è la tua bravo quella perfetta è quella che stava incastrata nella statua di ghiaccio è già mortata quella dove tu hai preso l'arma tua e il corpo interno io in tutto questo dico chi è Cristo? qualcuno oh ok un giovane chierico che ancora si sta pensurando nei meandri liberati vans e guardi che era il monaco in tenebre e io ce l'ho evitato inizio e... appena ha capito dalla sua morte che avrei venuto disperato perché avremmo voluto dirvi di essere padrino suo figlio vabbè comunque l'amarezza comunque il nome non se lo ricordo si chiamava Fulvio, si chiamava Fulvio, lo chiamavano Fulvio e lo sfaccia calesse per la sementa forza, per la voglia di sfondare calesse eeeeh andiamo a condare addio per me altro ce ne stiamo condando comunque lui ci bastò lì a Fulvio allora arriviamo davanti alla porta di casa Teodora di Sant'Antonio ma perché tutti questi nomi strani quella vecchia madre Teodora scada con un calcio sfonda la porta c'è la testa che sta sentendo qui dentro padre Teodoro sbotta proprio di polmoni che cosa è questo coso? e entra a diger voglio saperlo anch'io che cosa è quel coso? e rimane tutto e io intanto dico in silenzio andamo bene comunque vorrei sapere che cosa è questo coso e cosa stiamo andando a combattere cosa si trova all'interno del bosco perché ci abbiamo già rischiato ci ho rischiato io la pelle una volta e non voglio farlo più voglio andarci preparato e rompere la faccia a quelli che mi vengono a rompere eeeh senti qua ma questa qua è anziana? si si ok su via non vedi che è un po' anziana non può comprendere tutte queste informazioni una sola volta e un indovina dovrebbe indovinare le cose e allora non le chiedere sa già cosa devi chiedere se lo indovinano? ok allora dici che cosa è questo? eh? ma adesso ora quando si mette gli occhialini tremolando probabilmente il stringe coso e si lecca le labbra perché gli amici ne fa allora ovviamente questa è un'azione del paladino che si chiama Pai tanto per esiste no peccato si esiste ma se sei un monaco non attacca brighe ti fai mai un di sei danni e andando contro del s***o in pace vabbè e dici che è un Tudge Wyrm una una creatura sempre serpentiforme è associata ai draghi e all'interno del bosco è strano che ci sia no? probabilmente è arrivato da qualche posto molto più lontano e però nel bosco ci sono un sacco di di spiriti e collecchi piccoli con la testa e grande quanto uno spirito si mimetizzano all'interno del bosco e molte zone sono a loro sacre quindi nessuno le ha mai traversate ma beh non ci pare che non saremo utili ma un po' i secondi qualcuno deve deve aver pure avuto queste informazioni non credete allora ragazzi che facciamo? comunque è strano che abbiamo preso una ragazza così quindi torniamo a caccia? eeeeh sarà meglio riscaldarci un po' intendo con magari un bel po' di whisky ok torniamo alla taverna però dovremmo chiedere se ci può lasciare una stanza un magazzino perchè questa testa io proprio devo portarla anche in là aha ok ci vediamo in taverna ok mi raccomando nessuna vita eh va bene ok quindi chi sta andando in taverna? eh stiamo andando tutti io però entro tanto per chiedere un alloggio ok 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 ok